Sabato 30 ottobre nell'Aula Consiliare del Comune di Salento si è tenuta la presentazione di due libri Amore Bipolare di Areanna Nese e Mirari di Antonella Casaburi. La manifestazione rientra nel Salento culturale. La serata, visto grande partecipazione di pubblico, è stata moderata dal dottor Antonio Pesca. Durante l'evento, prendendo spunto dalle tematiche affrontate dai due libri, si è parlato di diversità di territorio e di immigrazione e si è discusso del ruolo fondamentale delle istituzioni e della cultura nella promozione e valorizzazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Areanna Nese, giovane e prolifica, scrittrice di Salento e al terzo libro. Antonella Casaburi, docente di lettere che col romanzo d'esordio Mirari ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino, realizzando un'esperienza importante nel maggiore evento di settore italiano, intervistata ha dichiarato. Eventi inaspettati, incontri fra sconosciuti e luoghi dell'anima possono, così come nel mio romanzo accade, stravolgere la vita. Il richiamo forte del territorio, di quel luogo lontano in cui affondiamo le radici, può far scattare in chi se ne allontana quella malinconia, nostalgia, attrazione verso la terra delle origini, al punto da dare vita a un incontrastabile richiamo che induce quel senso di stupore e di abbandono, quel meraviglioso rapimento dell'anima che io chiamo Mirari.